Da venerdì 10 maggio al centro pastorale diocesano prenderà il via il corso gratuito per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Tale iniziativa è promossa nell'ambito del progetto Insieme per educare e accompagnare i minori. Il progetto che abbiamo avviato nei mesi di ottobre scorso in collaborazione appunto con diversi uffici pastorali della diocesi e diverse associazioni appunto laiche del nostro territorio intende prendersi carico e favorire dei processi di integrazione per questi ragazzi. In particolare come primo passo è aperto in questo momento un bando al quale appunto si può partecipare per prendere parte al corso gratuito per la formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. È un percorso formativo che si svolgerà qui a Fano nel mese di maggio per la prima volta si svolge nella nostra provincia perché altre edizioni si sono svolte ma in altre zone appunto della regione Marche. Le domande appunto scadono il 12 aprile ed è possibile ricevere tutte le informazioni contattando direttamente l'associazione l'Africa Chiama al numero 0721 865159. La conferenza stampa di presentazione del corso ha visto la presenza del Vescovo Armando che si è soffermato sugli obiettivi specifici da proseguire ovvero innalzare il livello di sensibilizzazione da parte della comunità pastorale su temi dell'accoglienza, favorire la formazione e l'accompagnamento di tutori volontari provenienti dalla diocesi e innalzare il livello di integrazione sociolavorativa dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio. Il tutor deve non solo dargli da mangiare ma deve dargli anche una cultura perché si possa integrare, includere dentro un mondo che comunque è molto diverso come quando noi andiamo fuori abbiamo bisogno di capire dove andiamo, di informarci altrimenti il minore non accompagnato ma anche se accompagnato rischia lo sbando e rischia di essere giudicato con un pregiudizio. Martedì 2 aprile partirà il primo corso di orientamento al lavoro per 9 minori stranieri non accompagnati, 3 provenienti d'Albania, 5 dall'Africa in particolare Gambia, Nigeria, Senegal e uno dal Pakistan. Nel periodo estivo invece saranno attivati due laboratori professionali con possibilità di tirocinio e 10 borse studio lavoro, un'esperienza per 4 ragazzi che avranno l'opportunità di vivere insieme e dare prova di organizzazione e autonomia.